ciao a tutti oggi preparo un contorno di verdure carciofi carote cipolla prezzemolo e piselle sale e olio intanto vado a fare pezzetti e carciofi metti il prezzemolo ho aspettato una cipolla e 2 carote metto il sale all'olio olio e sale quanto basta ora li porto sul fuoco a cuocere ora li ho messi sul fuoco e li faccio cuocere eccolo pronto da servire grazie per l'azione grazie a tutti grazie a tutti